Una causa che potrebbe ridefinire l'intero assetto di controllo dell'impero è Elkan Agnelli, che comprende anche la Ferrari e la Juventus. Si apre questo lunedì presso il Tribunale di Torino una nuova tappa di un processo che vede da una parte Margherita Agnelli, dall'altra i figli John Elkan, Lapo e Ginevra per l'eredità della madre Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. Al centro della vicenda il controllo della società Dicembre, che fa capo agli eredi di Giovanni Agnelli, un tesoro stimato in oltre 4,6 miliardi di euro. L'accusa di Margherita Agnelli è quella di essere stata tagliata fuori dall'immensa eredità dell'avvocato insieme agli altri cinque figli avuti dal secondo matrimonio. Gli altri tre figli sostengono invece che tutto rientra in accordi miliardari, sottoscritti ormai quasi vent'anni fa.